buonasera amici sono donatella responsabile area sviluppo e marketing multi brand distribution sono qui in seguito al primo video che abbiamo lanciato su facebook io e luigi che è il responsabile tecnico volevo darvi due dati giusto perché è giusto informarvi di quello che è successo dopo il nostro post il nostro post ha circa 30.000 visualizzazioni ha avuto una condivisione fuori da quello che erano i nostri le nostre previsioni volevo dirvi che sempre comunque tutto sotto controllo il vincitore verrà estratto nelle giornate di lunedì martedì perché abbiamo necessità con un programma che ovviamente farà l'estrazione in base a tutti quelli che hanno partecipato alla condivisione al mi piace sulla nostra pagina quindi abbiamo diciamo due giorni dopo quella che è la chiusura ufficiale del contest ovvero sabato quindi martedì noi daremo il nome del vincitore ovviamente il vincitore dovrà venire qua in sede a ritirare il galaxy samsung a3 in palio per questo primo nostro concorso avremo il piacere di presentarvelo e niente tutto qua oggi è arrivato il piotto colgo anche l'occasione per presentarvi facendovi un brevissimo unboxing di questo meraviglioso prodotto che si presenta in questa scatola rigida eccolo qua è già a riscosso un grandissimo successo nella versione mystic champagne stupendo allora ci rivediamo sabato per comunicarvi ufficialmente la chiusura del nostro contest io e i miei collaboratori poi aspettiamo il vincitore il giorno penso tra martedì e mercoledì niente che dirvi grazie mille per il successo e buona serata ciao